La pace del Signore sia con tutti noi, miei cari. Nella grazia, ancora stasera, vi voglio mandare una grande benedizione, che Dio veramente possa benedire tutti quanti e che possa trovare grazia a ognuno che sta cercando la gloria di Dio. Quest'oggi siamo qui a Darmstadt, stiamo facendo delle compre. Dio volente abbiamo risolto quasi tutto e il Signore ci ha benedetto di avere ogni cosa secondo il nostro piacere. Ancora non ci dimentichiamo di pregare per chi non ha avuto quel successo che desidera nel cuore. Oggi il Signore ti sta benedicendo, sta a te prendere tutte le benedizioni come se fosse un buffetto. Il Signore te la sta donando, ora sta a te prendere con le tue mani ciò che il Signore ti vuole donare. Non ti dimenticare prima di chiedere al Signore ogni cosa che desideri con tutto il cuore e il Signore te le darà. A Dio volendo ci sentiremo più tardi. La pace del Signore sia con tutti noi. Vi abbraccio come se fossimo qui di presenza con un grande bacio. La pace del Signore a tutti quanti.